ah che bella cursa però mi sento fresco come una rosa capirai scarpe Antonini presto Enrico siamo in ritardo volo una doccia e sono pronto ma come vieni così ah vedi ci sto così comodo che mi sto dimenticato di cambiarmeli sempre Antonini eh calzature Antonini tante occasioni con un solo tipo oppure se volete un tipo per ogni occasione Antonini ai piedi di che presto o dico Antonini eh grazie grazie grazie